C'è il timbro del governatore Vendola sulla candidatura all'Europee di Elena Gentile. I due si sono ritrovati faccia a faccia nello studio del Presidente dopo aver driblato i giornalisti nella conferenza stampa mattutina. Vendola non si è opposto ma ha preteso dalla Gentile continuità amministrativa alla guida del superassessorato che ricopre sanità e servizi sociali. La campagna elettorale in pratica non dovrà intralciare il cronoprogramma e gli impegni già presi. La Gentile ha rassicurato il Presidente. Fino a maggio non si muoverà dall'assessorato e il tour elettorale lo farà di sera o nel fine settimana. Ma prima di scendere in campo l'assessore vuole ancora riflettere, almeno per altre 24 ore. Il sì però è molto vicino e di certo scombinerà i piani del segretario PD Emiliano più che perplesso sull'investitura di una concorrente a dir poco scomoda. Alle scorse europee raccolse 45.000 voti in poche settimane di campagna elettorale. Ora correrà col vento in poppa di un assessorato da 90 e l'appoggio dell'ala d'Alemiana del PD. La candidatura inoltre potrebbe unire in futuro la sua corrente, l'ala Civati, a sinistra Ecologia e Libertà, il partito di Vendola. E chissà che non faccia un favore indiretto al presidente in vista delle regionali, scippando proprio ad Emiliano il seggio a Bruxelles. Un risultato che metterebbe fuori dai giochi il sindaco di Bari.